3 step per far risparmiare tempo e soldi alla tua azienda Primo step, registrati su shop.dmgroupbologna.it Non temere, sarà facilissimo e velocissimo Secondo step, ordina online per la tua azienda Affrettati, grandi affari ti aspettano Terzo step, corriamo a portarti i tuoi prodotti Goditi il tuo tempo, al resto ci pensa DM Group Il tuo capo sarà felicissimo di aver risparmiato tempo e soldi Con il nuovo e-commerce di DM Group